Salve, ciao, noi siamo contro le scuole della società industriale, noi ci adoperiamo per i fiumi, i laghi e i mari puliti, ma soprattutto per la salvezza del gabbiano. La salvezza da che? Del gabbiano. Ma va a tappiando qua a te i gabbiani, ma come io mi ripagno i gabbiani, io vado a tappare. Se il mare muore, muore il gabbiano, se il gabbiano muore, muore il gabbiano, è conseguentale, dai, caccia mille lire. Ma so, cinese, lasci i petti qui. Ma che non sapete, 500 lire vanno bene per la salvezza degli animali, sayonara. Oh, io devo andare da papà per via d'assegno, ci metto un attimo, capito? Tanto ci sto due minuti, non devo più. Signori, signori, non crede niente per la salvezza del gabbiano? Professore, sono io, sono Cristiano. Ah, senti, figlio, il professore sta facendo la doccia. Io devo andare da papà a prendere l'assegno, resta Carmela qui a fare questo, capito? Comunque io vado e torno. Non perde tempo, torna subito che partiamo. Vado e torno, ci metto un attimo.